Tuba Bujukustun e Engin Akiurek hanno fatto una dichiarazione a sorpresa sul futuro dopo tempi difficili. Stanno attraversando questo processo da un po'. La coppia ha sorpreso sia i fan che il mondo delle riviste con questa affermazione. Gli eventi che hanno vissuto in passato hanno influenzato profondamente le loro vite e le loro relazioni. Tuba ed Engin hanno annunciato di essere entrati in una nuova era con le parole che niente sarà più lo stesso. Ecco tutti i dettagli di quella dichiarazione, i processi che la coppia ha attraversato e i loro piani per il futuro. Dopo il loro matrimonio, Tuba ed Engin furono molto contenti della notizia dei gemelli. Tuttavia, in questo processo, il comportamento dell'ex marito di Tagba, Honor Sailak, ha disturbato la pace della coppia e ha costretto Engin ad intraprendere un'azione legale. Ciò ha indotto Tagba ed Engin a riconsiderare la loro relazione e i piani futuri. La coppia ha detto che le nostre esperienze passate ci hanno fatto maturare e hanno dato alla nostra relazione una nuova prospettiva. Tagba ed Engin hanno dichiarato nella loro dichiarazione di aver deciso di apportare grandi cambiamenti per il futuro. Tagba, gli eventi che abbiamo vissuto ci hanno dato l'opportunità di rimodellare le nostre vite. Abbiamo intenzione di costruire una vita completamente diversa con i nostri gemelli. Niente sarà mai più come prima. Abbiamo preso decisioni radicali per la felicità e la pace della nostra famiglia. Dopo le difficoltà, la coppia ha deciso di ridefinire la loro relazione. C'è stato un legame segreto tra noi e Tagba Engin, e questo processo ha aiutato il nostro rapporto ad approfondirsi e rafforzarsi, ha detto. L'amore e il legame tra noi e Engin Tagba ci hanno aiutato a superare tutto. Ora siamo più preparati per gli ostacoli che ci attendono. Vi forniremo i dettagli sull'argomento. Grazie a tutti.